No, il pedalò! Ragazzi prendiamo un pedalogna per un bagno C'è il pedalò? Sì! Se sei con... No, è già fatto! Aspetta, fai tutti bro! Oh bro! Shhh! Ma non è butroghenio! No, 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 bro, bro, bro! Oh, no veramente, perché sennò mi rompono i coglioni in live! Però facciamo uno al bagno! Sì, no, al bagno lo facciamo! Tu vuoi che ti tengo? No, no, no! Ce l'ha fatto, sì sì sì! Di illegale! Mai di illegale! No, 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 no! Io devo mettere il bagno, io non posso essere il bagno! No, no! Raga, io non posso fare il bagno tutto! Faccio tutto... No! 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 Bro, è caldissimo! È stra caldo eh! Mi sento che non posso bagnare il telefono! E io la mano, quindi siamo... Stiamo presto! Aspetta, bro! C'è un cartello! Cosa è scritto? Cosa è scritto? Ah, ma non è scritto in italiano! Diviato di balnazione... Risa... Perché? Ordina... No, ma... Aspetta! No, ma si può! Ma questo è uno squalo! Ragazzi, c'è uno squalo, guardate! Ragazzi, c'è uno squalo! Ragazzi, c'è uno squalo! Oh, c'è uno squalo morto, Andre! Andrea! Andrea! Ragazzi, c'è uno squalo morto, l'abbiamo beccato adesso! Bro! C'è uno squalo morto! No, andiamo! Guarda lì! C'è gente lì! Aspetta che... Che f***. Che f***! C'è uno squalo morto! Chiudono, bro! Aspetta che f***! A p***! Andiamo? Aspetta... Io ti rimetto la maglia! Aspetta che... la genio sta facendo pipì bro ti sposto bro avete fatto il bagno? no, io mi sono bagnato dei cavi ho già spostato lo snus si esatto si aspetta aspetta attenzione fenicottero o bagnetto? no 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 così chiama veramente la polizia io non posso bro non è forte dei marmi guardami aspetta bro perchè ho fatto una cosa più illegale della vita a parte fumarmi le le canne? se vuol dire sono bravo potrei fare lo twitchers si è un twitchers bro allora i calzini non ce l'avevo posto io ho la chiave da qualche parte ho messo qua le sigarette che mi ha regalato lui e le chiave chris mettimi un attimo no mettimi la tua luce guarda senza pensieri io si cos'è che stai cercando? guarda bro fai luce? vai butta giuncone per me per cosa? e snuffela ragazzi signore twitchers snuff chris mi fai luce? un giorno un giorno bro un giorno bro quanto pesi? stai cercando ragazzi lo snuff non è niente no ma guarda vai bro stringi il petto non vado in palestra da tipo 8 mesi trembolone eh ho fatto 3 mesi e poi ho smesso io ho fatto 3 mesi di trembolone conosci? tu hai messo il mio ah l'ho messo io bro no guarda l'ho messo io è riuscita la mia qua tu hai messo il mio maldietta bro vecchio scusa ho messo la tua maglia vecchio no stai tranquillo no no non credo al router no è stato stradale qui è mezzo thailandese non so se sei capito guarda qua guarda aspetta tu sei così Andrea sta tenendo la maglietta sta facendo vedere la sua grossenza io sono così contrario eh esatto io sono tutto grasso bravo tu non c'è un cazzo eh e tu bro io devo mangiare tu ma io sono sempre così non so perché bro tu arrivi a un mese a fare si se faccio 2 mesi qua ma anche uno anche uno non è che si tira bro non c'è più niente altro di mio qua questo è il vostro ok io ce l'ho già eh io ce l'ho già 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 voglio fare una domanda andre quanto ha cambiato il trembolone nella vostra vita quanto ha cambiato il trembolone nella vostra vita il trembolone nella vostra vita esatto al contrario tuo bro però non c'è figa quando mi parti tu in vacanza no il trembolone è un uno steroide bro e non lo so che cosa sia eh vabbè bro è tipo non l'ho mai usato proteine avvantaggiate andiamo a fare il bagno mai usato bro se non devo scopare vado a f*** il bagno non l'ho scopato mai no andiamo a fare il bagno tutti allora vediamoci qua non c'è il coso del bagno noi siamo qua ok Chris dimmi questo router io non bagno niente bro andre tengo tutto io che non bagno un cazzo io non faccio il bagno no lo so no ma togsi dai io ho visto già mezzo mezzo ho fatto mezzo no no bro dai vieni a fare il bagno ah si vabbè bro dai ragazzi non voglio fare il bagno con voi no ma anche si non voglio fare il bagno con voi cazzo non voglio mettermi nudo con voi cazzo vieni qua vieni qua fammi scappare oh ragazzi posso fare il bagno solo ai piedi ieri e ieri e per codio cioè nel senso non c'è ragazzi compagnia eh simpatici tutto mare io non voglio fare il bagno con loro c'è una una tartaruga marina ragazzi guardate bel gris bel bel ben gris bel gris come si chiama quello delle delle avventure lì della ragazzi bel gris ragazzi c'è una tartaruga marina super super cattiva questa ci sta per attaccare guardate ma io sono super preso ora la prendo vorrei vieni qua e a pescara ecco la ragazzi c'è una tartaruga marina ah no è un palo marino ce l'ha veduta La vedete? Ragazzi posso dire una cosa? Io vi voglio anche bene Ma io voglio anche andare a dormire tra poco No io voglio fare il bagno E fai il bagno No ma non per te Andre Però vorrei andare anche fuori dei coglioni Vabbè facciamo il bagno Dai L'agio è giusto L'agio è giusto Bro Bagno No Bagno Sì Bagno Sugar Bagno gender Anni Santer Oh bla Vai ragazzi No Chris Vieni qui tu Ci sono le meduse Cazzo è vero se ci sono le meduse raga è fottuto Arrivo bro Ma gli metti i piedi Questo è un bagno LGBT ragazzi Questa è la medusa qua raga Si E' il cazzo di Andrea la medusa qua dentro raga Attenzione Andrea la medusa delle mutande Attenzione Ragazzi stiamo affondando Andiamo in Albania Ciao bro Ragazzi C'è un piccolo problema ragazzi Pasqua un attimo No 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 Io voglio andare fuori dai coglioni Ma Ecco 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 ragazzi siamo fottuti Dio Dio Andiamo No 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 Ma Ma che vieni bro Stanno arrivando Stanno arrivando gli amici bro Ragazzi 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 una cosa io vi avviso Ragazzi vi sto per avvisare Vi sto per avvisare Vi avviso che io Io scappo corro Nessuno sa il mio nome No io scapperò Nessuno sa il mio nome No No Andre non hai capito Vieni Ragazzi Oh Nessuno fa il nome di nessuno No Va bene Ok Oh Ragazzi stanno arrivando la polizia Io faccio uno scatto eh Ragazzi io ho avvisato i miei amici eh Ho avvisato i miei amici Non voglio fare l'infame che poi scappa Io Io l'ho fatto da Però Io ho 29 anni L'ho fatto con la scuola A fine scuola che mi chiede piccolino E lui è rimasto quello Ragazzi Ho 100% visto la macchina Che parcheggiavano con le sirene blu Vi dico come funziona adesso Guardate eh Ma ve lo faccio vedere in diretta No ma noi non siamo Noi siamo qua legalmente eh Eh Sì Quella testa eh Quando escono Vieni qua porca dio Sì No volevo filmare un content Volevo fare il content Eccoci Ragazzi Sì Ma si vede poco tra l'altro Ragazzi No allora Noi siamo legalmente qua No Sì No legalmente sì È libero Sono Gli ombrelloni che sono legalizzati Ok Una macchina di cops Non puoi guardare niente Chris No ma io Sei libero Ok Sugli ombrelloni Vieni con noi bro Gli ombrelloni Sì Ma io lo so Lo sai sicuro Però dobbiamo stare in acqua fino alle 7 del mattino No Io entro da 10 anni così Ragazzi dobbiamo stare in acqua fino alle 7 del mattino eh E mia mamma ha detto questo E me l'ha detto mia mamma Allora In che senso gli ombrelloni Non va bene Ok Quella è proprietà Di quel povero ombrellone Di quell'altro Eh ma se siamo arrivati qua Vuol dire che siamo passati per gli ombrelloni No Sul bagnasciuga Il bagnasciuga è largo a 5 metri E sono tutti che camminano Ah l'affare lì Sì Tra il mare E anche 5 metri Aspetta Andre Quello Non è di nessuno Non può essere di nessuno Andre è molto semplice E di nessuno Non ci sono Non ci sono Che parliamo in acqua Va bene Sì, io voglio andare a dormire, Andre, mi sono anche orto il cazzo, non è che... Anche io mi sono orto il cazzo. Andiamo. No, ma bro... Ah, sì, sono con in mano un powerbank in un'acqua. Bro, non è per la polizia, che cazzo me ne frega, ho fatto cose peggiori, però... Bro, cioè, stare in un mare con tre amici alle quattro di mattina quando voglio andare a dormire, bro... Ci poteva essere figa. Eh, capito. Se fosse figa direi... Bro, ma io... Quale serve? Allora, ragazzi, io direi... No, regà, non... Ho un tuffo. C'è un'ordinanza, non possiamo uscire fino alle cinque. Gano di tuffi. Allora, regà. Quali? Andre. Ma no, ma non voglio stare qui. Io ho il powerbank in... Io sto con Chris. Io ho il powerbank e il router. Allora, regà. Ma io non è che scappo, regà, anzi, io aiuto prima loro. Però, ma non bisogna scappare da niente, regà. È tutto legale, però... Cioè, no... No, bro, è legale. Loro dicono che è legale. Aspetta che è mutuo. Loro dicono che è legale. Loro dicono che è legale. di andrea da mica lo tengo io anche questo portafoglio andrea andrea omi ho il tuo portafoglio e la tua icos prendo anche il tuo cappellino andrea metti santo la maglietta no raga non prendiamo le multe no vi aspetto però è un'ora che dico voglio andarmene fuori dai coglioni se noi andiamo fuori di qua ci sono gli sbirri no che facciamo il bagno il nerf dopo i 50 è in testa no non shot se no xm4 da media li scoglie lupi non ho capito un chiazzo grazie per l'euro andrea prendi le scarpe ma non sono un pussy ass bro è che non comunque devo dire la verità è un pussy ass no no non puoi dirlo questo bro no raga mi dissocio andiamo via allora ehi eh si dissociano però eh dai e potresti fare il bagno ma si ma andiamo andiamo a casa raga no no mi disallineo ragazzi adesso vedete quando vedono la pula come corrono il bastardo no vecchio eh no che cazzo volevo dire eh eh bro lo secondi ci facciamo prendere no hai capito mi faccio prendere io bro si ma io non voglio fare un cazzo vecchio sai io non ho soldi no tu corri bro si hai capito no ma è scherzo bro non c'ho scarpe bro è legale è legale filati di me si può fare la cosa che stiamo facendo si può fare no no avete la letto che non so no no si può fare si può fare io fisso la cica no c'ho la legge si può fare perchè ho preso le cazzo si può fare il mio no 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 ecco'li 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 bene Ssshh! Chris! C'è una ronda! Io mi... Oh! Mi molo, eh? Sì! Eccoli, eccoli! Penso che sei... Incarcerati! Con le ginocchia! Incarcerati! 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 Grazie a tutti. 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 Quella persona che ci ha fermato, quel ragazzo che io non ho voluto far casino, non poteva bloccarci dall'andare nel bagnasciuga. Punto, punto. Puoi andare nel bagnasciuga o nel fare il bagno in mare. Cioè tu hai la proprietà degli ombrelloni, ma se tu vai a mettere un asciugamano o a fare il bagno in mare, nessuno può impedirti di fartelo. Entrano in un qualsiasi posto, nessuno te lo può impedire. Non puoi andare nel bagnasciuga, non puoi andare nell'ombrellone, nel posto degli ombrelloni, col bagnasciuga e nel mare puoi fare quello che vuoi perché il mare e il bagnasciuga sono... E' questo che ho fatto la voce grossa al tipo, infatti voi avete fatto i coglioni perché il tipo mi faccio entrare. Però avete fatto i coglioni, non dico Chris perché Chris non può essere mai un coglione. Però avete tutti avuto un po'... Io conosco le regole, non è che... Bru, andiamo, andiamo, andiamo. No, questa è la casa più bella che c'è. E' super figa sta casa, cazzo. E' super bella. Guardate che dico, no? Leggi? Io con i sambuconi non riesco più a leggere. Posso? E' leggerito l'ordinanza. E' leggerito l'ho acceso in pioggia dalle. Ha, forse. Forse vedo, ha bo. Ma non. Oh. Non mi interessa. Non è vietato. Non è vietato. Dove siamo andate noi si poteva. Eh, bravo, bravo. Regalo, se andate noi si poteva. Questo, questo è fuori reggio. Infatti... Aspetta, bro. Questo è il vero fuori reggio, bro. No, non posso. No, proprio voglio arrivare a casa, voglio dormire. Bastante, c'è un problema. Cosa? Che non possiamo entrare in hotel. C'è il codice? 110. E' il codice? Sì. Ok, non pungerti, Andre. Non mi fa male. Asfalto brucia. Bro. Ma siamo? Sì, è lì. È là, è là. Luis. È lì, è lì. Andrew. Scusate di me. Ecco. Scusate. Buona serata, ragazzi. Scare bassa. Se qualcuno mi ferma, bro. Viva il cocao. Se qualcuno mi ferma, bro, io dico. Parco Dio, sono... Sono Mr. Hyde. Sono il padre di Mr. Flame. Sono il padre di Mr. Flame. Sono il cane pazzo. Io non riesco più a parlare, bro. Siamo arrivati? Ho preso 800 mattie sul mio piede destro, eh. Ah, ci sono due cose. Oh, siamo arrivati. Dammi, dammi. Siamo arrivati qui. Andrì. Oh, stiamo... Oh, cane pazzo. Su. Andrì, po' di seconda. No, mi sa che ci siamo persi. Mi fa male il piede. Mi sa che ho preso qualcosa, Chris. Ciupi, nai nai, ciupi. Ma chi è il bezza? Il rosmarino? Sì, ma il rosmarino è il... È il riservante. Esatto. Ah, è giusto, giusto, vieni. Sì. 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 Andrì. 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 Aspetta, Andrì. Andrì. Ah, so che arrabile! Andrì. No, no, no. Andrì. Andrì. No, eh, questa è tua. Andiamo, dai. Andiamo fuori dal coglione. Ma qui è? No, qui è lasciare stare. Andrì, andrì, vieni. Omi. Omi, cosa raccoglie? Andiamo, dai. Omi. No, regala, dai, non ce la posso fare. Andrì, Andrì. Ce l'ho tutto io. Il portafoglio? Ce l'ho io. Solo il telefono, hai tu? Sì. Esatto. Io il telefono. Ma senti a bro. Dimmi. Anche vincere. Sì. Guarda, c'è tutto io. Router tutto. Tranquillo, bro. Basta, bro. Bro, bro. Basta, eh? Basta bere. Basta bere. Ah, mancano 200 metri. Bro, ho un po' di formicoli. Catarrate. No, bro. Dai, Andrè. Andrì. No, bro. Non è che ha preso qualche serinca. Eh? Gio è GX. Gio è GX. Non c'è GX. Non c'è GX. Bro. No, andiamo, dai, bro. Ecco. Sì, ragazze. Ho aspettato il monopattino? Oh, aspetta a temerci. No, c'è. Bro, vai. Ti ho una delusione. Ah, è lunedì. È lunedì, è vero. Poca capitale. Ma è una maglia al contrario. Lo so, sì. Ma ha fatto il bagno. Sono scappato. Ciao, ragazzi. Ciao, bro. Ciao. Dai. Dai. Ma sai che ci saldi? Dai, no? Sì, ma non ce lo champagne. Non ce lo champagne? Sono trent'anni io. Dai, Andre. Ciupi, nai, ciupi, nai. Bro, guarda qua. La differenza si fa. Guarda, Andre. Andiamo. Bro. Ecco la polizia. I cops. Pensa, bro. Penso ai miei giuditori che vedono questa cosa, cosa dicono. Bro, meh, cosa ridi, oh? No, ridi. Pensa ai miei giuditori, bro. Mi vedono me qua e dicono a me. Ma che fai con una scappa, con una ciabatta? Eh? No. Andre, Andre. Però... Si è fatto... Cosa, cosa? Si è fatto un mangi al piede, bro. Ma io si è fatto un mangi al piede, bro. Questo, non c'è una cazzo di macchina nel mondo. Però se arriva un ubriaco, tipo questo, noi ci teniamo qua da parte. Ma bro, ti senti? Sei tu quello che arriva tutto ubriaco. Eh, lo so, però, se oggi non sono io, ed è un altro... Facciamo tranquillo. Vedi? Questo? Eh, ma... Eh, ero... Fa casino. Invece noi arriviamo. Tranquilli. Non facciamo casino. Il mio piede mi fa... Inizia a fermare, eh. Non hai più un piede. Hai una suola. Posso fare un vettere? Si. Ma non hai più un piede, bro. Hai una suola. Hai una suola lì sotto. Deve mutare, ragazzi. È un piede. È un piede. Il mio piede è un pii. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comandiamo? Chris, comandiamo? No. Un sambucchino? No. Comandiamo un sambucchino? Basta, cara. E' un pedo nobile. E' un pedo nobile. Comandiamo? Comandiamo un... Comandiamo un pedo nobile. Nobile. Chris, Chris. Che ho fatto? Sì? Dammi il mio cartellino. Bene, metti un giorno di borsa. Tutti i giorni che ho fatto. Bro, era così obbligato solo il primo giorno ad Amsterdam, bro. Così tanto. Era così obbligato dal primo giorno ad Amsterdam. Che ho fatto? Bro, è un pedo. Che ho fatto? 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 Sì, però non aver paura Occhio, non fa dare, Andrew Andrew Ti ho permesso di dovere il piede? No, va Prendi la sedia No, occhio, non fa dare, Andrew No, aspetta, io te lo pubblico, bro No, Andrew, si spacca Aspetta, facciamo vedere Viva la Come fai a fare? Che c'è una padaria e tu sei qua Bro, vai Ma te lo voglio metterli qua Così Aspetta, però mi faccio non beccarmi No, devi spostarti, bro Così No, bro No No, bellissimo Non ti faccio niente No, un po' qui in là Di qua? Un po' qui in là, sì Perché devo, ok Viva la rassa Ma l'ho mai fatto No, bro Era troppo pericoloso Cosa faccio io? Te lo faccio io Andre Quanti giorni? No, bro No, bro Lo spacco io Lo sarò spaccando, bro Sì, no, non lo metto, dovrei stare per ora, siamo presi, come si dice, due in tre anni di settimana, no, tre anni di settimana. Bro, no, io non ho preso 95 kg, bro, io ho preso 60 kg, no, 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 se vuoi fai la parola da qua, vai, vai, prova, prova, da qua. Grazie al piano. Vai Chris, go piano, bro. Sii gli occhi, sii gli occhi, Andrew? Andi, sii gli occhi, no, non ti messo le gambe, Andre, mi asi invece, sii lì, Andrew? Wait, cazzo. Giovanni? non è stressante, è come trappare un dente per fare i primi secondi è come trappare un dente è come trappare un dente va dai non guardare, chiudi occhi bro è molto schifo quello che è fatto va schifo quello che hai fatto perchè? dai, mi ritrovo aspetta lo voglio fare più alto no no, sempre qua perchè non parlare basta ti riprendo andre basta vedi qua guarda qua bro inquadra metterlo lì bro eh no no ma perchè stai prendendo questi giochi da proprio perchè siamo tutti figli dei 2.000 quindi non è più vita uno, due non è più non è più non è più non è più ora lo faccio io ora lo faccio pure di Undertaker shhhh bro inquadra metti lì metti lì metti lì metti lì metti lì aiii mi ha otto il cazzo bro aiii mi ha otto il cazzo bro shhh aiii shhh 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 oh andrea 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 shhh l'ho scorricciato l'ho scorricciato l'ho scorricciato no 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 mi ha giocato il cazzo bro mi ha giocato adosso andrea shhhhhh 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 vai 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 uno due tre the winner is the winner is buttar queño ah oh ah 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 oh 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 ah 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 oh No, no, ho la HITZ, è vero, ti ho raccolto anche questo che hai perso, ho perso tante cose, ti ho raccolto questo, la dignità, ti ho raccolto questo, eccola, ti ho raccolto la dignità, questa è la dignità, non ho la HITZ, allora io adesso, di consueto, come consueto, ah ragazzi no ti vanno qui, no ma no ma non lo faccio vedere, No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Teo. C'è Sara. Teo. C'è Teo? No, Teo. Ma fai un culo, ci vediamo nel paddock, Teo. Nel? Paddock. Quello di Formula 1. Teo, tu hai l'edito. No, chi è Sara? Sara, possiamo fare una videochiamata? Sara. Facciamo una videochiamata con Sara. Vai. Prendi il telefono che chi mi ti chiama non sa. Il mio? Sì. Ah, non può, Teo. Ma lo posso farlo io? Ok, grazie. Troppi uomini. Eh, ma adesso facciamo la videochiamata con Sara. Ci sei, Andre? Mmh. Mi chiamate? Sara, ci puoi scrivere, puoi scrivere a me su Instagram? No, no, no. Sì. Su Instagram? Scrivi su Instagram che... Mi hanno chiamata. No, basta che me la fai in estremo. Angie? No, anche Angie. Yeah. Te lo dico io, guarda. Andre, comunque tu hai un po' di fighe, secondo me? Eh, ultimamente, sì. Buon si è scritto. Non ho scritto? Sì. Ma... Bé, te... Allora aspetta, metti in blu tutto bro Eh, bro, bro, brui Ah, è vero, Andre ti faccio sentire la canzone Qualcuno può fare la sub che faccio sentire Mi sembro io Eh, mi sembro io Eh, ma perché bro C'ho l'alert Aspetta, non adesso ragazzi, aspettermi Mi dico io quando Eh, se ti iscrivi a Aome Ah, mi hai disattivato te JBL3 Qualcuno può fare la sub così faccio sentire la canzone Aome Un piccolo prime Ok, vorrei si accendere E' attiva la cassa raga Eh, non solo una sub, non voglio il sub, una sub per ride Ma do, parto panzer, lavora Allora posso iscrivervi in suo stima SP, hai iscritto? Parco io, raga, un prime, porca puttana Non è che mi sto chiedendo 100 euro E' un'amicizia Poi, cioè, ve li rimando, come al solito Così mi sa ne chiedono un brand di internet qua Lei non vuole cioccolato E non lo molla più Se riguarda il suo passato Non non ce l'ha va più Finisce, bro Bro Ma che è sta cassa così bassa? Ridona, bro Coco 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 Chris ti ha schiamato Ridona Che ora è al massimo Coco È vero, Coco puoi regalare una sub a qualcuno che vuoi tu? No Ridona, Coco Che qua era... Chris era un po' una fighetta Si, è vero Ridona adesso Coco puoi regalare 20 sub a che sentiamo la canzone 20 volte? Ah, scherziamo, Coco per il mio, vai Ma... Si, 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 la metto a carcarli Vai, Coco Ti aspettiamo Coco Come è colpa? Ti ha scritto Sara Sara ha scritto... Omi Si, ha scritto, no? Ma non è questo? Perché ho preso questo? Ah, ma Coco ha regalato... Ha regalato 10 sub, Coco Ciao 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 Ma cosa fai in hotel? Vi è uscite... Chi ha? Che te... Sono per il downquish di prima Non si vede niente qua Cosa fai? Cosa fai piccolato? Si, non si vede niente Ciao 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 Siamo facendo una... 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 Un... Un bambino Ah, il panchia Guarda, Spaz C'è del cibo dell'alcol Sushi Ok Non pari Ci sono anche del testo Viva la razza E la stile Ok a capo, Andre Me lo spacchi Ma siete al palazzo? Sì, siamo al palazzo Guarda, guarda Guarda il palazzo Era stato troppo brutta per essere al palazzo È al palazzo Siamo al palazzo, bro Siamo al palazzo Dai venite qua Venite da noi che facciamo Stiamo facendo dei pizzi Stiamo facendo dei pizzi Eh? Ma hai fatto che c'è dell'alcol qua Anche da noi Noi adesso facciamo i go-kart C'è dell'alcol Anche da noi noi facciamo i go-kart Grazie Venite qua O venite qua O... Non ci interessa Non ci interessa No, nessuno è in live Ah non siete in live No, se no io non potevo essere chiamato Dai Andrea Eh no, non ci può, bro Venite qua Venite qua Ma da dove? Nella nostra stanza Guarda qua che schifo Dai Dimmi Vieni Ti mando alla posizione No, te la mando in la posizione Vai mando una Se vieni ti facciamo un soffocotto Oh, arrivo subito per un soffocotto Cosa da dire Dai Ti mando alla posizione su Whatsapp Va bene Allora 345 Nooo Mandala su Whatsapp Eh ti ho detto il numero Ah Ti mando al numero su Whatsapp Ti mando al numero su Whatsapp Ti mando al numero su Instagram Ah ok Cocomero Alato ha donato 2 euro Mi sembra una figa di legno questa Un soffocotto Un soffocotto Con i suoi amici, bro Con Budra Genio Però, però Allora Mi ha comprato Mi ha comprato Budra Genio Che è il primo giocatore Come si può dire Bisex 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 Beggio di cecchi paroni Mandali la posizione Che facciamo streams No, bro 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 Allora Dimmi Devo mutare un secondo No Voglio dirti una cosa No Mi sono smutato Ok 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 Bro Però se tu vuoi andare Cioè No, ma io non voglio di soffidanzato Non voglio andare Bro, però mi sembra un po' Posso dirti, bro Chris Se a me è un po' No, no Carine, belle Ma bro Dove dovete andare O vengono qua Il nostro Palace Hotel 5 e 7 O se no no Io gli dico qua Gli dico venite a fare la sleeping Vabbè Vabbè Se devi fare la foglia umana Mi avvisi Sono offeso eh Eh? Sono offeso Andre Andre Posso dire una cosa? Sono vecchio Mi va D'accordo? D'accordo? Cosa? Sono vecchio? No, no D'accordo? Cioè Bro O vengono lì O noi Chris non abbiamo 19 anni Dai Dai cazzo Dai caso Dai caso Dai caso Bro Sblocca il tuo telefono È qua Vai Ragazzi Io ho bisogno di figa Ma ti ho appena chiamato una ragazza, bro Sì, ma non c'è voglia di andare con i suoi amici A fare il poser di sto cazzo Ah tu dici Ti chiamano lì Per Ma no, però Con tutto il rispetto Però Io so C'è Vuoi stare tranquillo No Andrea Riciamo Bro, dove richiamo? Eh? Ma ho fatto la Alla te che Che lo fanno Ah Mi ha attaccato su whatsapp Ma stai richiamando? Io vado bene Oh Ecco Non lo so Cocco grazie Cocco Beruanato Cheered X100 Content di settembre Grazie 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 Cocco È andato in live Quindi venite? No Venite voi? Ma dove? Al coconut Sì ma qui ci sono 29 anni 30 Passa di età Non No No Vabbè dai Sì una volta sola Facciamo una sleeping No Mille euro facciamo una sleeping Cosa? Cosa? I? I tuoi spettatori I tuoi spettatori I tuoi spettatori Please Vogliamo vedere il soffione in live? Grazie per cento bro Luppi ha donato un euro Luppi ha donato un euro Dici tanto che vuoi scopare omi e poi dici No no allora sei uno scaccia fighe proprio perla 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 parla Ma che io Che devo stare vicino Venite venite Ti mando la posizione No la mando io Va bene Ma è vicino? Sì è vicino Ma è vicino al locale di prima? Sì Ma facciamo l'amore? È nella strada di fianco Noi siamo dove c'è il papete Noi siamo dove c'è il papete Sì Siamo ancora la moglie del papete Guarda Il banchi c'è tipo lì E noi siamo qui Capito? Dici anche al caino? Eh noi siamo dove c'è il papete Eh a 10 minuti di distanza Il caino? Ma si fa after? Si fa after? Volte dall'alba? Vogliamo veder l'alba? Il veraggio CIRD X100 Basta portare un po' di alcol in questa stanza di hotel dai cazzo un po' di figa vai Chris Dai Siamo a posto Dai fai una live decente vieni qua Eh ma siamo in live Dai fai una live decente caro Eh venite a fare live decenti Dai fai un po' di cipollà Abbiamo pure cipollà Abbiamo pure cipollà Fanno lì Bro Mh Ok Il mio bro Siamo riposando i cervelli Ma che cervelli dai Ma siete già arrivando? Siete in viaggio? Si Ci vediamo fuori dal papete? Dai su venite voi Quante persone ci sono lì? No Oltre a noi due altre quattro Sono quelli che lavorano qua che gli possono dare l'alcol Ah l'alcol No no neanche sono una fogna eh Sono anche molto bravi Oh no Luppi ha donato un euro Con quei cazzoni le spaventate poi occhiolino Ma loro sentono quello che io dico? Nooo Nessuno non sente niente Nessuno lo sente nessuno vede Cuore non vede Occhio non duole Dai Ciao Basta Sancia Andrea Si ma Andrea guarda Sei bezzato Cocomero alato ha donato un euro Chi a dire se hai mai visto un elicottero in live? E mi chiedono No mi chiedono se hai mai visto un elicottero in live X100 Piccola vieni qua da noi Chris Ti accoglie nelle sue braccia muscolose Ricordati una amica però mi che è un riccone pissellone Sì Dai con questa live fai su 2.000 follower Arrivo E' già nel mondo dei sogni quello? No ma sto scherzando Sto facendo una gag Ti raglio che uscire in testa? No adesso lo abbraccio C'è un amore Ma che hotel è il Coconut? E' un hotel E' un hotel E' un hotel Del papete Ah Chi ce ne paga abbastanza Sì esatto Ma infatti siamo su camera 4 Non siamo più Helicopter Helicopter Dai però Poi che cacci O venite o venite No Oh Pesò Ah Chiavano La Sigaretta Eh Non è troppo forte Sono stanco Ehhh Quattro In 14 giorni 15 giorni Sono ubriaco Allora Dai così Adesso stacco Ci alziamo Ti scrivo su whatsapp Ci vado a posizione Helicopter Helicopter Trrr Ciao Ciao Ciao! Bro, vengono qua in questa merda e noi ci spostiamo. Bro, i tuoi fan sono dei coglioniti. I miei fan? Sì, ma posso non donare la canzone? C'è la cassa. Ah, è vero, ho preso le... No, se no la faccio io. Ma bro, ragazzi donate. Guardate, ho la sleeping. Aspetta che te lo attacco a questo. Ah, c'è un altro cavo. No, adesso... Bro, no! Aspetta... Ma è Type C, no? Sì, no, no, però per... Per il router. Ah, sì, 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 sì. Ma... Chris... Eh... C'è... Bro, c'è quello di mettere le canzoni? No, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. No, non funziona. Qualcuno può donare 5 euro per vedere se funzionano le canzoni... Per idei. Secondo me non vanno, perché se non lo avrebbero già donati, eh. Ma c'è altro di questi cavi... U-U-U-U-C? U-U-U-C? D'orne? Ehhh... D'orne B-U-U-C. Ehhh... D'orne B-U-U-C. ma dici che stai caricando non funzionavano le canzoni 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 era meglio Chris andiamo a dormire fate quello che volete non tiro con le pantaloni no non tiro con le pantaloni fate quello che volete ragazzi però tahun è Joinn europee Potete fare una, anzi sette, e potete fare una donazione prima delle donazioni del video. Ok, fino a la nostra.